ciao questo è un video che solito rifaccio sui film che riesco a andarmi a ricopriare che come come film ho visto che lo stanno sono andato al cinema per andarmi a vedere proprio la storia della pezza splendente che lo stanno facendo adesso al cinema e l'ho voluto andamelo recuperare nel guardare come si dice che come film è il solito film di animazione giapponese che come geneto camera il drammatico fantasy che ho capito ea del 2013 come film di questo isao tacata che ho voluto come film andamelo a recuperare nel guardare che anche se come si dice come anche se magari è in animazione l'ho voluto andare al cinema per recuperare melo che ho visto che lo stanno come stava dicendo prima lo stavano proponendo al cinema che due anche due ore e un quarto quasi di film che come come trama parla più che altro che come come trama ma è un po come si dice un po difficile da da come si dice da da spiegare che parla più che altro di di occhina anche un tagliatore di bambù che si trova di fronte a un evento inspiegabile in un germoglio di bambuto a una minuscola creatura luminosa che ha la le simbianze di una principessa e decide di portarla a casa per questo si trasforma in una neonata che l'uomo e la moglie decidono di crescere come come una figlia che dopo qualche tempo l'uomo torna più che altro nella foresta e trova un'altra sorpresa da un bambù che cresce cresce dell'oro e occhina lo interpreta come un segno divino che una richiesta di fa di fare della bambina una principessa che dopo oltre dieci anni di silenzio un budget sempre più colpisco e è una lavorazione complessa da questa carta abbandona il taglio neoralista che lo ha reso celebre per portare a termine la sua interpretazione di di una delle più antiche fiabbe giapponesi questo taglio e monogatari che risale al decimo secolo che più che altro mai come si dice la trama proprio della la trama proprio del film e a questa qua che più che altro come si dice il tagliatore di bambù comprende magari fin dalle dall'inizio che questa principessa origini soprannaturali e si prende a cura di lei al meglio delle sue possibilità ma quando ritorna alle canne a queste canne di bambù delle pt delle pepite d'oro e dei meravigliosi vestiti capisce che il cielo vuole che il destino di sua figlia non sia tra i contadini del villaggio ma tra gli sfarsi delle capitale che decide quindi di acquistare con loro una residenza in città e comincia a preparare per principessa quello che lui ritiene un futuro di felicità che più che altro essendo mai anche che due quelle due ore un quarto di firme ho visto che merita anche se di animazione questo qua che più che altro magari prima di parte e partire da state da quel paese satema che che si è sposato ed è anche diventato padre anche se il suo cuore appartiene mare anche a lei appena la vede i due si allontano magari insieme volando spensiati e ripensando mai ai giorni felici insieme dimenticando per un attimo tutto il resto ma il tempo magari di ripartire non tarda però il secondo secondo quando dice il popolo della luna lei e lei non ricorderà più nulla della sua esperienza sulla terra e anche se la mare la sua vita futura non sarà probabilmente segnata da un spiegabile 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 magari nostalgia che mentre il caro e celeste si allontana dal dal pianeta la principessa volta il capo e guarda proprio il mondo umano con aria triste che magari come trama ho visto che è molto bella come trama che che merita anche se magari come stavo dicendo prima anche se due a quelle due ore in quattro po merita che non ci sono durante il film mentre guardi non ci sono nemmeno parti dovetti poi magari annoiare che tutto lineare come film anche se il film di animazione però come trama come trama come trama merita sicuramente uno di quei film di animazione da andarselo a recuperare che sicuramente uno di quelli sicuramente magari da consigliare che può piacere ma anche ma a molta gente come trama come trama che magari vi lascio come al solito sotto in descrizione tutte le informazioni proprio sul proprio sul sul film tra la trama video trailer e qualche altra informazione in più trova la trovate come al solito tutto sotto in descrizione che visto che lo stavano proponendo al cinema che sono andato a recuperarlo nel guardare li volevo anche come si dice dedicargli anche un video e portarlo sul mio canale che merita questo film qua e niente quello che potevo dire magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente più avanti con i miei soliti video che che porto sul mio canale che altre magari le solite informazioni sempre sul film metro come stavo dicendo prima le trovate sotto in in descrizione e niente per adesso vi saluto ci vediamo al prossimo al prossimo video ciao